Avanti Gela, lotta col cuore, tutti allo stadio, vinci per noi, forza ragazzi! Sono alcuni dei passaggi che si leggono su numerosi striscioni preparati dai tifosi biancazzurri alla vigilia della sfida con la Senca Daldese, prevista per domenica prossima a Vincenzo Presti, con inizio alle ore 15. Gli striscioni sono stati collocati in diversi punti della città, perché, lo abbiamo già detto in altre occasioni, la gara con Inisseni assume una rilevanza importantissima per il team presieduto da Angelo Tuccio. Le due squadre sono divise da tre punti, comanda la Senca Daldese a quota 38. Vincendo, Pandolfo e Compagni la raggiungerebbero in vetta alla gradutoria. Il pareggio per i Gelesi servirebbe a poco e tutto rimarrebbe invariato. Ecco perché bisogna solo conquistare il successo. I biancazzurri dal tecnico Dotto Bruculeri si presenteranno all'appuntamento di domenica, reduci dal pareggio di Alcamo che ha lasciato l'amaro in bocca. Il Gela infatti è stato raggiunto sull'1-1 a seguito di un calcio di rigore alquanto dubbio. Ma, per usare le parole dell'allenatore gelese, bisogna andare avanti e non piangere sul latte versato. Ogni partita ha una storia a sé e il risultato, volente o nolente, nella naturale conseguenza. Finora, davanti al pubblico di casa, il Gela ha sempre fatto bene, tranne in alcune occasioni in cui è mancato il guizzo vincente. Così come è accaduto nell'ultima partita a Casalinga con la Folgore finita con il risultato di 0-0. La San Cataldese, nell'ultimo turno di campionato, ha battuto per 1-0 il Mazzara. In sostanza si affronteranno le squadre che fino al termine della stagione regolare combatteranno pallone su pallone per il salto di categoria in Serie D. I Nisseni hanno la miglior difesa del torneo con soli 9 gol subiti. I Gelesi hanno un attacco stellare con 31 gol realizzati, 4 in meno rispetto al Dattilo Noir. 10 le partite vinte dal Gela, 5 pareggiate, 3 quelle perse. La San Cataldese, invece, finora ha conquistato 11 successi, pareggiando in 5 occasioni e perdendo in 2 circostanze.